Il Centro Congressi di Riva del Garda, continuando il proprio percorso di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, per la seconda volta in meno di un anno, ha aderito al progetto Food for Good, che prevede il recupero delle eccedenze alimentari degli eventi e la ridistribuzione presso le strutture religiose o laiche che aiutano i più bisognosi. Si è conclusa ieri una conferenza dedicata ai temi relativi all'intelligenza artificiale e l'analisi dei Big Data. L'evento, coordinato dal professore Andrea Passerini dell'Università degli Studi di Trento, ha attratto 650 ricercatori da tutto il mondo. Al termine della conferenza sono stati 60 i chilogrammi di cibo recuperati, nonostante siano stati preparati soltanto coffee break e aperitivi con una ponderata pianificazione della quantità. Nei locali nei quali noi operiamo, come Rivalgarda Fiere Congressi, sia come organizzatori di fiere che come organizzatori di congressi, ovviamente di cibo ne passa parecchio. Dalle fiere internazionali alle fiere locali ai congressi nazionali e locali, passano migliaia e migliaia di pasti ogni anno. Per noi assistere a questo passaggio di risorse così preziose senza poterle utilizzare è sempre stato un problema che ci è stato risolto da questo progetto meraviglioso partorito all'interno di Feder Congressi, secondo il quale noi organizzatori di eventi potevamo diventare un anello prezioso nella filiera che porta tutti questi pasti dai nostri locali alle tavole di persone che hanno bisogno di poter mangiare quotidianamente ma soprattutto diritto alla qualità. Per fare questo abbiamo avuto un alleato preziosissimo che è Banco Alimentare del Trentino Alto Adige che è un terminale dal quale passano le migliaia di pasti che noi possiamo garantire e vengono poi distribuiti nelle comunità laiche o religiose che a loro volta poi sono anche se terminali di una polverizzazione di una distribuzione di pasti veramente molto molto capillare. Ecco quindi una società come la nostra insomma orgogliosa di essere uno degli anelli di questa catena che ha del virtuoso. Tra l'altro si inserisce in una fase storica in cui la sensibilità verso lo spreco finalmente è diventata qualcosa di concreto al di là dei discorsi ma è diventata qualcosa che a parte essere tradotto addirittura in una legge approvata recentissimamente ma anche una sensibilità più diffusa a livello proprio della gente. Grazie.